Pronti, partenza, via! Jack, benvenuti in questo nuovo video! Noi siamo nel ginnasse del CSB Traduzione Siamo sbarbollate Allora, prima di tutto dobbiamo salutare delle persone Esatto, un po' di persone Iris Portolan Ciao Mar... Vai Ciao Martino Arianna Grande Monica Canonico Ciao Massi Taddeo Ciao E Marta Perra Ciao O Perra, non so, scusate E poi vi dobbiamo dire Iscrivetevi anche sul canale Centro Sparbollate E anche su Instagram Sì, brava E su Facebook Dappertutto Sì, dai Bene Guarda In questo video Volevo raccontarvi un po' la nostra storia Dalla Svizzera all'Italia Come viviamo adesso Eh, dalla Svizzera all'Italia Non so, ma Va bene, comunque Dunque Chi fa Inizia Comincia Io? Sì, te Dunque Dunque Saluda Antonio Saluda Antonio Praticamente Noi eravamo Noi quattro Cioè, tutte e tranne la femmina Eravamo in Svizzera Cioè, abitiamo ancora in Svizzera Con i genitori Vabbè Poi vi spiegherò loro Ehm, facevamo ginnastica artistica Per la nazionale Svizzera Sì Con? Ma Sì Con la nostra allenatrice Monia Ehm, per vari motivi Monia si è trasferita in Italia Ehm, quindi Venendo qui in Italia Abbiamo conosciuto tante persone gentili, simpatiche Che ci vogliono tanto bene Tipo L'Agata e il Bruno Che sono le persone che ci curano alla sera Sì Ehm Non li vogliamo tanto bene E tutto Ci sono stati dei problemi per quanto riguarda le gare? Per gareggiare qua in Italia Soprattutto per me Perché avevo già fatto delle gare internazionali con la Svizzera E quindi Mi avevano tipo bloccato per vari motivi Ehm Ho potuto cominciare a gareggiare solo dopo un anno e mezzo Che non gareggiavo più A livello internazionale Mentre la Kate invece E' riuscita ad ottenere subito il passaporto Smettete Il passaporto italiano per poter gareggiare subito quell'anno Ha fatto video E un anno fa abbiamo conosciuto Federica Uuuuh Grande Federica Quanto è un po' come ti sei trasferita? Prima andavo in un'altra palestra Ma non era Bella Cioè non mi trovavo bene Ahà Come qua diciamo Eh? Spera? Non ti trovavi bene come qua? Ah In quel senso E poi sono venuta qui a provare E sono stata tutto qui Perché mi sono trovata benissimo E me hanno saltato subito bene Allora Noi di scuola facciamo dieci ore alla settimana facciamo una scuola privata facendo 6 ore 6 ore di ginnastica al giorno non abbiamo tanto tempo per la scuola quindi facciamo poco ma intenso se vuoi che diventa una sottilezza e basta e questa è la nostra storia tutto qua speriamo che vi sia piaciuta e che vi abbia vediamo faccio un pochino di fare un sorriso non so come si vabbè torna a ridere il riso ho fatto ridere c'è che è la fine del video no solo io posso farlo a tutti c'è che è la fine del video iscrivetevi al canale certo lasciate un bel pollice in su e scrivete nei commenti cosa vorrete che faremo nei prossimi video bravo grazie bravo qual fa niente il nostro italiano è pessimo però qual fa niente il nostro italiano è pessimo chiediamo che la presenta la Maria Grazia sì veramente siamo bravi in inglese adios adios dovevo farlo io adios adios grazie a tutti grazie a tutti